Sicuramente io vedo grande sintonia e anche grande difficoltà, devo dire, in coloro che debbano pensare, alcuni di loro pensano quando sarebbe terribile il messaggio per esempio di non andare a votare, anche trasmesso a un paese, o anche la capacità di fatto che poi ritornando nel proprio territorio, in Sicilia, debbano andare a dire ai siciliani che non hanno votato una persona per bene e che questa è la prima volta, un'occasione per la prima volta per la Sicilia e per i siciliani. È molto difficile questo, spiegarlo, perché non si capisce, c'è anche i moderati voglio dire, ma Mattarella viene dall'aria moderata, io vengo dalla storia del partito comunista, voglio dire, vengo dalla storia di sinistra che è abbastanza diversa rispetto, pur essendo cattolico anch'io, però con una prospettiva politica completamente diversa, una visione abbastanza diversa. Mattarella è cattolico, ma è cattolico anche democristiano, quindi viene da una... Ma molti di questi moderati, allora chi volevano? Non si può scegliere un presidente sulla base della simpatia e delle antipatie di partito, si sceglie se è una persona che può garantire tutti, se può garantire le istituzioni, se è una persona che vive bene, se onora le istituzioni. Io credo che Mattarella onora le istituzioni, prima di tutto bisogna votarlo per questo, e poi, in quanto siciliano, sono orgoglioso di essere italiano, perché riusciamo a eleggere un uomo come Mattarella, e sono orgoglioso di essere siciliano, perché questa Sicilia non ha espresso soltanto il Reina e Provenzano, di Ciancimino, ma è spesso anche uomini come la Pia La Torre, come Pier Santi Mattarella, e adesso anche Sergio Mattarella, che è il presidente della Repubblica.